per l'evento di halloween 8 per cento di sconto per l'acquisto di crediti food su igvout.com Ciao ragazzi ben ritrovati nel mio canale allora non fate caso al mio occhio nero è una testata presa giocando a pallone ma a parte le cazzate oggi vi parlerò di una cosa seria che è come non prendervi cura del vostro occhio bensì prendervi cura del vostro account food perché spesso e volentieri si sente di gente hackerata quindi gente a cui qualcuno entra nell'account gli vengono vendute le carte passati i crediti in un altro account e ciao a tutti e se siete fortunati dopo un mese EA Sports vi riconosce nuovamente una parte o tutti i crediti che vi hanno rubato però fatto sta che per un mese rimanete fregati oggi vi spiego come mettere in sicurezza al meglio il vostro profilo food non dimenticate ragazzi di fare un salto su Eneba.com il negozio più affidabile per i vostri oggetti digitali trovate playstation card giochi giochi xbox codici dlc chi più ne ha game pass chi più ne ha cioè game pass 3 mesi e 1 euro ragazzi oltretutto mettendo il prodotto nel carrello potete usufruire dello sconto del 3% con il codice FIFA Utita prezzo del prodotto 16,53 inserite il codice coupon FIFA Utita e avete uno sconto del 3% 50 centesimi meno quindi ulteriori risparmio su già il vostro risparmio Eneba.com una sicurezza prima di partire ragazzi c'è una cosa importantissima allora dovete capire che la prima sicurezza passa da voi nel senso che non dovete mai dare i vostri dati d'accesso a persone online che vi garantiscono che vi danno crediti che vi regalano crediti che vi trovano un glitch per fare crediti non dovete mai abboccare a queste stronzate purtroppo ci sono tanti tanti pezzi di merda online in giro per il mondo ok che cercano di truffarvi quindi mi raccomando la prima cosa la prima questione di sicurezza passa attraverso voi non date dati d'accesso a persone di cui non vi fidate ciecamente può capitare che anche gli amici vi freghino ragazzi quindi fate veramente veramente attenzione e altra cosa la web app quindi dove voi inserite i dati di accesso di foot è solo una il sito è ufficiale yay.com slash parapapapa web app ok non c'è nessun altro sito che funziona come la web app quindi quando entrate in web app da un computer nuovo da non lo so da un altro accesso che non avete mai usato fate attenzione a guardare il www che sia quello ufficiale bene detto ciò come mettere in sicurezza il proprio account allora la prima cosa da fare è entrare su origin.com origin è la piattaforma di electronic arts dove è possibile gestire il proprio account e tutti i vari giochi a disposizione questa è la schermata di accesso origin.com in basso a sinistra potete vedere l'accesso lucio più fautita chiaramente è l'accesso mio come potete vedere accedendo cioè passando il mouse o dal browser da app del telefonino dove siete andando sulla voce account yay informazioni di fatturazione entrate diciamo dentro il vostro profilo ok vi farò vedere le schermate del profilo stesso chiaramente con le informazioni mie personali nascoste ma vi spiegherò come fare per andare a proteggere il vostro account ora prima cosa andando vi aprirà la sezione informazioni personali chiaramente dovete avere dati corretti l'importante è aver inserito sia l'indirizzo mail che il numero di cellulare e che siano verificati se vedete da me c'è la spunta blu con scritto verified cosa vuol dire la verifica viene fatta semplicemente inviandovi un codice via sms che voi inserite lì o inviandovi un codice nella mail personale che quel codice lì lo inserite su origin e vi verifica quel profilo lì una volta effettuato ciò una volta aver inserito tutti i dati correttamente sarà necessario andare ad attivare la verifica a due fattori che è la cosa più importante che c'è all'interno del profilo origin così come c'è per il profilo psn per xbox eccetera eccetera cos'è l'autenticazione a due fattori molto banalmente non è altro che il aspetta che vi ho messo due screen uguali non è altro che il il fatto di ricevere un sms con un codice di sicurezza nel momento in cui qualcuno tenta di accedere se vedete da me la verifica di accesso è attiva io ho scelto l'autenticazione via codice con sms quindi se una persona dovesse entrare nel mio profilo foot ricevo un sms con un codice che quella persona deve inserire quindi se non ha accesso al mio cellulare non può entrare in foot ovviamente l'autenticazione a due fattori è fondamentale anche per il vostro profilo psn o xbox perché se qualcuno hackerasse il vostro profilo psn o xbox e voi non avete attiva l'autenticazione a due fattori non ci serve un piffero diciamo l'autenticazione su foot per la web app d'accordo perché qualora abbiate fatto un accesso in precedenza su una console sull'account foot e reinserite il psn vi chiederà il codice di accesso psn ma non vi chiederà l'autenticazione a due fattori di foot quindi questa è una cosa fondamentale poi l'autenticazione a due fattori è meglio farla via sms o via app autenticatore che è l'applicativo mi pare di google che attraverso qr code e altre pataccate vi dà un codice che viene generato in quel momento lì quindi anche quella è una questione di sicurezza evitate la verifica di accesso via email perché l'email è facilmente hackerabile quindi tanto meglio avere il codice via sms o via app autenticatore un'altra cosa importante è la sicurezza della password prima cosa non usate la stessa password per tutti i cazzo di account ragazzi non fate come me ok io predico bene ma razzolo male no a parte gli scherzi la password è importante perché sembra una stronzata ma usare una password semplice il nome proprio il nome del proprio cane con la data di nascita l'anno di nascita eccetera è una password troppo banale è necessario purtroppo mettersi in sicurezza e mettere una password una password difficile una password che vi garantisca che sia difficile da hackerare in modo tale da poter avere un profilo difficilmente hackerabile tutto qua detto ciò ragazzi come sempre vi ricordo lasciate un like al video iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e se avete dubbi lasciate un commento qua sotto non mi non mi stuferò mai di dirvi che la prima sicurezza passa da voi quindi mi raccomando un occhio di attenzione e non l'occhio nero come c'ho io oggi no a parte scherzi fate attenzione veramente perché purtroppo capita spesso ne sento veramente tantissimi di messaggi di voi utenti che mi scrivete su telegram su instagram su twitch ah mi hanno sono entrati nel mio account e non ho più crediti sono entrati nel mio account e non ho più la squadra si può risolvere la questione contattando il servizio clienti EA Sports fornendo le prove gli screenshot del vostro account e spesso e volentieri vi viene restituito tutto ma talvolta EA Sports non riconosce diciamo questa operazione anomala e non vi restituisce un piffero quindi è meglio evitare di rischiare che qualcuno entri nel vostro account spero che vi sia stato utile questo video e che vi consenta di proteggere al meglio il vostro account ci vediamo al prossimo video ragazzi e un saluto ciao 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 Grazie a tutti